Amici di Radio News 24, ben ritrovati su On Air, storie di interviste, io sono Vincenzo Caruso e oggi abbiamo con noi una nuova ospite in collegamento dalla Lombardia, Hoa Mai, che ci parlerà di My Cake Art Corner. Salve, Hoa, e grazie di essere quest'oggi con noi. Sì, salve, è un piacere di essere qua con voi. Grazie anche per noi, grazie anche per aver accettato il nostro invito. Allora, noi quest'oggi parleremo di torte, parleremo di arte, lo faremo raccontando un po' la sua storia. Quindi partiamo un po' dall'inizio. Lei come si è avvicinata a questo mondo delle torte e come anche ha scoperto questa sua passione? Allora, io sono originale un architetto e ho lavorato per circa dieci anni in Italia e poi quando ho avuto un mio figlio circa quattro o cinque anni fa e non potevo più avere un tempo per seguire questo lavoro e quindi provando a fare la prima torta di primo compleanno per lui, ho scoperto questa passione perché alla fine la mia conoscenza di architettura mi aiuta tantissimo con questo hobby. Ecco, allora, quindi approfondiamo un po' di più questo argomento in modo tale che anche quando condividerai i video della nostra intervista ai radioascoltatori ne potranno sapere di più. Io lo dico anche per chi non la può vedere, dietro di lei ci sono alcune fotografie proprio delle torte che lei ha creato. Quindi ce ne mostri qualcuna, ci faccia capire anche quanto tempo ci è voluto e quali torte sono. Allora, le torte normalmente io sto facendo, realizzando in pasta di zucchero a tema e normalmente qualcuno che ha bisogno mi dice che cosa vorrebbe o magari mi racconta un pochino di loro. la loro storia. Quindi questa cosa è la cosa che mi piace più quando seguendo questo lavoro perché posso vivere la loro storia insieme. Quindi una della torta mia preferita è questa, è una valigia di ricordi di una coppia anziana che lui lavorava come un autista di una compagnia turistica e quindi loro sono stati sempre insieme a viaggiare e quindi io ho pensato di fare una valigia, una valigia che porta dei ricordi. Quando si chiude si vede come una valigia vecchia. invece poi si può aprire e dentro ci sono delle calamite, dei momenti famosi dove loro hanno visitato. Ecco, quindi veramente possiamo dire che quel rapporto tra arte e torte a cui facciamo riferimento poco fa ha preso proprio vita insomma in questa torta che lei ha creato. Sì, perché per me è molto importante che le torte che faccio sono personalizzate, vuol dire che non c'è una torta uguale all'altra, anche se hanno la testa tema, però ogni persona ha una storia diversa, loro sono diversi, quindi devo creare una torta che parla di loro. Assolutamente, anzi poi veramente l'aspetto artistico e creativo come abbiamo visto è anche molto importante perché veramente queste torte sono curate in ogni minimo particolare, sembrano proprio delle vere e proprie opere d'arte. Sì, grazie, perché io ho alcuni principi per me stessa. Prima cosa devo studiare i clienti, quindi chi sono, che cosa sono la loro storia, secondo devo studiare bene il tema che vogliono realizzare e poi vorrei fare tutto a mano e libili, senza usare il minimo stampo possibile, quindi per creare un effetto non industriale, senza predi, senza emozioni. E poi devo anche, una cosa importante che mi aiuta come architetto è studiare il layout del progetto, quindi è come un piccolo progetto, vuol dire il layout come giocare, combinare i colori, come anche giocare con i contratti e poi molto importante per me è sempre decorare anche in base della sottotorta, perché la base è anche una parte del progetto. Assolutamente, anzi io poi lì se non sbaglio ho visto anche la scritta in giro per il mondo da 90 anni, insomma, quindi veramente è qualcosa che sia la fotografia ma anche la stessa torta racchiudono, come diceva lei, proprio la storia delle persone che effettivamente poi le andranno ad acquistare. Quindi da questo punto di vista, per quanto riguarda le personalizzazioni, queste avvengono solo e unicamente sulle torte oppure volendo possono avvenire anche in altri casi? Allora, infatti io sto sviluppando anche una serie di progetti a tema, vuol dire magari se qualcuno vorrebbe potrei creare dei disegni sulla maglietta o sui pantaloni, su qualsiasi materiale, scarpe, un quadro, utilizzando lo stesso disegno che ho studiato per la torta, vuol dire la torta sarà mangiata, un peccato perché tutti dicono ma è bellissimo, non voglio tagliarla, però poi avranno un ricordo diverso sulla maglietta, sulle scarpe o un quadro che vogliono tenere. Assolutamente, anzi direi che in entrambi i casi veramente per chi acquista insomma queste, sia le torte che anche appunto le altre realizzazioni è un'esperienza fantastica che dovrebbe essere anche ripetuta. Allora, io vorrei lanciare anche questo hashtag torte e arte in modo tale anche da poterle permettere di condividere il video della nostra intervista e nominare per i radioascoltatori anche i suoi canali social. Lei è presente su Instagram come mycakeandartcorner, mentre su Facebook come mycakeartcorner. Ci sono eventualmente altri contatti come anche un recapito telefonico oppure un indirizzo email che ci vorrebbe lasciare? Sì, certo. Allora, il mio email è arte come architetto, quindi punto M-N-H-O-A-C-O-A-G-mail.com e il mio telefono è 329-146-28-90. Va benissimo. Allora invito i nostri radioascoltatori a mettersi in contatto con lei attraverso i canali che abbiamo menzionato, a scoprire anche di più sulle sue torte, sui suoi progetti e a provare anche direttamente il tutto di persona. Detto questo qua, io la ringrazio ancora per essere stata quest'oggi con noi, le faccio un grande in bocca al lupo e spero di poterla riospitare in futuro con tante buone notizie. Grazie mille. Arrivederci. Amici di Radio News 24, Eone Erra, restate con noi per altre storie ed interviste.